Salve a tutti i friends, salvo su Supercorris, eccoci qua ragazzi, GTA V, Next Gen, finalmente è arrivato, andiamo a vedere un po' come è questo titolo, vai, modalità storia, c'è anche l'online, vi ricordo che si può acquistare per 9 euro I caricamenti sono stati molto veloci, oh i grilletti adattivi molto buoni sul pad, sono contento Alzatevi va, li faccio per la, è la terza console su cui gioco questo titolo, dopo playstation 3, 4 e adesso 5, vediamo se è cambiato davvero Ah è cambiato il telefono Però secondo me ci ha attivato la modalità 30 fps rate racing perchè lo vedo poco poco fluido Sì le luci mi sembrano molto belle, guardate fuori i riflessi, evidentemente abbiamo la modalità 30 fps rate racing, non si spiega altrimenti Si, graficamente è migliorato il vidi, ha la possibilità dirunning Beh si graficamente è migliorato, eh Beh si graficamente è migliorato, eh Vedo il tuo看一下, lo credo Ah, guardate il tuo dark��, lo ricordo Ma si Mi ricordo un'onda di tutti i primi due giorni, perち ass lambare di sicuro di che sia one di quelle Ha visto i occhi, sono intoedso Oh cazzo voglio, sapevo io Ho ucciso Mike Vabbè la mia precisione è proverbiale E stati fermo Porco zio Trevor sempre molto liquido E' a me, fammi correre Ah giusto, ha re uno per me per si ripara Beh gli effetti visivi e di luce sono migliorati chiaramente molto 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 Rispetto alla versione PS3 ma anche rispetto alla versione PS4 Grilletta è attivificata F*** questi ragazzi Vieni ragazzi Tu non dovessi essere una coppia Prendi avanti Non sei un idiota Blame i ragazzi che ti chiamarono qui Prendi, prendi, prendi Vai Vai Vieni da qui Mars è qui, vieni Prendi, vieni Il figlio potrebbe avvicinare Questo non era nella descrizione di lavoro Minchia Si è fatta la barba a Trevor Eh let's go, let's go A me va Dopo quasi dieci anni mi ritrovo qui a giocare la stessa scena di inizio del gioco No, 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 veloce Mi sto ancora a sparare Vai Va sempre bello rivivere questi momenti Ah vai Ammazzate Beh sì, la grafica è migliorata Pop up sul fondo come sempre E che palla, un'altra volta Anche se la zuppa più o meno è quella Solo che il framerate è veramente molto basso Sparate, sparate, coglianazzi Oh io C'è una pulizia dell'immagine molto migliorata Chiaramente Seguiamo il piano Seguiamo il piano fale Scriviamo il piano Dott macerà f arrivi Vwing Sì Sì Mi dita Oh, cazzo. Fantastici i grillietti da TV, ma anche il feedback attico. Oh, cazzo, cazzo, cazzo! Oh, cazzo. E così iniziò la nostra storia, per la novantasettesima volta. La stavo portando pure su Fruit Lab, appunto, su PS4, per l'ennesima volta. Adesso lo ricominciamo. Oh, cazzo. Col cacchio che è morto, Michael. Adesso ci manca il nostro franchino. Eh, vorrei vedere... Adesso cambio modalità grafica, voglio vedere un po' come va con la fluidità, perché è qua troppo lento. Sì, sono belle le luci, ma a me piace giocare a 60 fps. Sennò sembra che sia una giocata su PS4. Oh, cazzo. Oh, cazzo. 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 . Cazzo. 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 No, cazzo Fuggimento Vedete com'è? Comunque le texture spesso si appaiono all'ultimo secondo Questo un po' mi rompe le balle, però Minchia Ammazzata La cacchio corrono ste macchine Ehi, ammazzata Quanto ci vuole asseminarli? C'è una miseria Mezz'ora per... Comunque i caricamenti voi non li avete visti Ma sono stati molto più veloci Rispetto a quello che è su PS4 sono tanti secondi, anche un minuto possibilmente Qua invece è stato quasi istantaneo La qualità generale è molto migliorata La qualità generale è molto migliorata La fluidità Mi piace Devo dire che avevo poche aspettative su questo titolo anche perché costa solo 9 euro Mi sono detto che questa sarà una fetecchia di quelle peggiori Invece vi dico la verità Gran bel gioco E' migliorato Dove doveva migliorare No, sbagliato Chiaramente, ripeto E' meglio la fluidità a 60 fps Che qualcosa che io non avevo mai visto su sto titolo Su PS3 e PS4 Che non il mero Guardate, è bello pure qua Vedete, qua c'è un po' di ray tracing Perché si vedono i riflessi sul pavimento Pobbana Ah, questo è il figlio di Mickey Non c'è nessuno Allora, raga, vedere sta flu-sta pazzesca fluidità nel gioco è qualcosa di incredibile Mi fa piacere Mi fa molto piacere Prendiamo la nostra macchinetta Marcia Ah, queste le marco A noi viene Oh, cazzo, raga Eh, scusate, però Eh, ma questo già ci romperà i coglioni altamente Porca troia Vabbè, voglio E vai Questo ci farà perdere Tanto Aver messo la musica Probabilmente su YouTube È il rifacimento È il rifacimento che mi sta piacendo di più, eh Sono sincero È il rifacimento che mi sta piacendo di più Chiaramente, chi lo vuole vedere a 60 fps Se lo vede su YouTube dopo Ma è fantastico Ma è fantastico Devo dire che sono molto colpito È una pulizia grafica Una fluidità Effetti luce diversi da quello che era il gioco originale No, non voglio guardare la televisione Non me ne frega mai Oh Dai, fammi riposare Ho capito Già lo sapevo Da dieci anni Le so ste cose Missione completata Dai E vai Abbiamo sbloccato Tutto il resto Oh, sto solo io Franklin Stavo andando a casa Il mercato, mio ragazzo Liquidità è una b***a E vai Figo il fatto di avere i grilletti adattivi Perché sentite meglio quando accelerate Frenate, è un altro livello Andiamo ad us Andiamo a vedere che ci dice Eh, figo, raga Mi sta piacendo veramente tanto Sono sincero Dei giochi che sono usciti ultimamente Forse è quello che mi sta entusiasmando di più Ed è quello che non avevo Minimamente puntato Cioè, anche quando ho visto 9€ Ho detto Questa era una fetechia Vedendo pure che hanno combinato Rockstar con GTA Trilogy Che faceva cagare E invece vi dico Che quello che mi sta piacendo di più Si percepisce davvero Una qualità diversa Su tutto Ma dove si entra? Vedete, pure questi cenni di ray tracing Sul pavimento Sono fighi Ah Che sei Che sei E' un'employee O'è un'employee O'è un'employee O'è un'employee O'è un'employee O'è un'employee O'è un'employee Non è facile Piccare un'envolvente e io vi ho detto a te che non è possibile cosa? oggi è riposessi caratteristiche che i ragazzi hanno compito a costruire di riservi ma domani insieme non ho mai avuto un figlio ma se lo so voglio che sia proprio come te non, non, niggas ahahahah 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 Ma si incazza le mar Sì, voglio vedere il mio nome a la cima della madre, con la vicenda che bisognava dire La vennera Eh, magari prossimo mesele, eh? Eh, f**k prossimo mesele, Simeone, che cosa di oggi? Mi chiamato una retrialazione Oggi non è nulla, solo una bicicletta, non ha fatto un pagamento a tutto Un altro bambino a Vespucci, suo nome è Esteban Jimenez È in una gamba? Perciò che non ho inquieto quando ha comprato la bicicletta Abbiamo lavoro per fare, eh, l'amore della città Ah Vieni pure con me A rompere le balle, le mar Questo le mar è il cugino di Neymar Guardate quanto sono belli riflessi sulle pozzanghere, ragazzi Cioè, si percepisce una qualità veramente più alta Beh, ragazzi Sono strasoddisfatto Lo giocherò sto titolo, ripeto, su YouTube non penso andrà Su Twitch e su Fruit Lab potrebbe andare Quindi, dato che già sto facendo il vecchio su Fruit Lab, che adesso vedremo come Come implementarlo, perché è un po' un macello Online non lo so, perché online... non lo so Non si sa online Cosa accadrà Però vi dico anche che fa paura Fantastico Per quanto è un semplice lavoro di make-up, ma ben riuscito Molto ben riuscito Eh, vai Eh, vai Beh, le mar, dove stai? Ah, cacchio, qua è dove dobbiamo sparare Bellissimo Bellissimo Sta fluidità, ragazzi, senza FPS per me ormai è diventata irrinunciabile Troppo bella E un GTA 6 con una grafica anche migliorata e tutto Secondo me sarà una figata mostruosa Sì, è vero Guardate pure i riflessi sulle auto, stupendi Miaoo, non sono belli cazzi, miaoo Non c'è manca la la pistola io Sarà questo? No O sarà Ferguson Eh, frate Eh, frate Eh, non è che ci manca uno solo, ce ne sta quindi questa Eccola la Oh cacchio Ma cazzo a me mi da la pistola, tu c'è la mitagliatrice Ma che cazzo soppaggio da Terminator Fluidità estrema, ragazzi, stupendo Sto gioco, così mi fa venire veramente voglia di rigiocarlo tutto Perché cambia tanto Una grafica che soprattutto di notte, scommetto, sarà sontuosa Oh cazzo Eccolo qua Eccolo qua Lo sto scoperto di me Sparemo No Oh cazzo Eccolo qua Solo quando io feci questa crap riuscita Tanto Che brainstorm Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Ma che cazzo bisogna andare a fare la cicletta fra un po', eccolo qua Ma cazzo sta lascia di benzina No raga non funziona Lascia di benzina Ah mo si Bellissime anche le esplosioni Cioè si non sono le migliori mai viste Ma raga Va bene Va bene un gioco davvero Oh cazzo Via a me le mar Smolete va Che c***o è già arrivato Via No cazzo la macchina nuova Bello raga che figata Che figata sto gioco Sono stra felice E ho speso benissimo 9 euro Oh cazzo sbagliato Eh chi cacchio lo ripiglia più questo Si vola E' entrato qua il pezzo di merda Eccolo la Ah Ah io la doppia la moto Ma porco giuda Con la pistola in mano Mettiamoci il casco va Non se la mette il casco Ah questa è poi la moto che avremo anche durante la storia Chissà perché Non me la ricordo bene come è andata Forse mo li tighiamo col tizio Boh Eh vedete mi rompe le balle Quando in lontananza appaiono i veicoli I palazzi Quello mi fa fastidio Però se uno non ci fa troppo caso Devo dire che Pazzesco Vedete pure le texture là Come si caricano sui palazzi Beh Se avessero curato proprio al top anche quello E' un gioco Uguale ma diverso Perché con questa fluidità Questa pulizia grafica Queste luci non si era mai visto A questo punto ti invoglia a rigiocarlo Per vedere al meglio come Come si può sfruttare questo titolo Sono contentissimo Vi dico che Mi fa veramente piacere Sì l'avevo visto su youtube Ma poi dal vero è tutt'altra cosa Ora vi ripeto Il live non si percepisce Ma nei video si capisce sicuramente la cosa Bello 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 Mi piace tantissimo E lo porteremo Carb wash Guardate pure i riflessi dell'acqua Sono stupanti Advoi Alta missione Completata Allora è fantastico Cioè guardate qua I dettagli I riflessi Mi piace Adesso aspettare anche la notte Vorrei aspettare la notte Per capire Guardate quanto è fluido qua Quando corri Quanto è più rifinita la grafica Rispetto a quello che avevamo visto Precedentemente È fantastico Sono veramente Estasiato Vabbè Finiamo qua Ci siamo divertiti Vi do appuntamento I prossimi video Live e podcast Al vostro supercorso Ciao a miałio Ciao ałogio A 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 Oh, oh, oh